Grazie per quest'anno anche di darvi la nostra comunicazione e esperienza tecnica sul territorio, visto che Mirandola può essere un luogo dove noi abbiamo già intervenuto con i nostri prodotti. Ringrazio sempre l'AES perché è da anni che nasce questa collaborazione, soprattutto sull'isolamento termico, ma quest'anno ci stiamo spostando anche molto bene sul discorso del radicamento sismico. Ogni anno portiamo piccole novità dalla calce idraulica naturale a prodotti specifici per il restauro come calce da risalamento. Quest'anno abbiamo puntato di più sul radicamento sismico visto alla location. La ditta ha creato proprio una serie di prodotti a base di calce idraulica per il rinforzo sismico, visto la natura degli interventi presentati dai colleghi precedenti di prodotti e di fabbricati soprattutto vincolati alla sovratendenza e dunque si è pensato di veicolare di più l'attenzione su questo prodotto a base di calce idraulica, il belit solido, nelle varie stratigrafie. Ringrazio ancora per la partecipazione e al prossimo anno. Ringrazio ancora per la partecipazione e al prossimo anno.